Con l'avvio del nuovo anno scolastico 2019-2020, una delle problematiche più importanti che le scuole avranno da affrontare sono le supplenze rispetto ai tantissimi posti vacanti che già nei primi giorni di lezione si verranno a verificare. Si prevede all'incirca dai 150.000 ai 180.000 posti disponibili per le supplenze. Chiaramente ci saranno prima le supplenze da GAE, ma le GAE sono per lo più, soprattutto per la secondaria, di primo e secondo grado gradatorie esaurite e poi ci saranno le gradatorie di prima, seconda e terza fascia di istituto. Però in diversi istituti, soprattutto nel nord Italia, la problematica è che nemmeno con le gradatorie di istituto si potrà far fronte alle tante disponibilità, perché una volta esaurite come è avvenuto le assegnazioni di professore e utilizzazioni che sono state fatte per lo più dalle scuole del nord Italia verso il sud Italia per i posti in deroga avuti, le disponibilità saranno in principal modo nelle scuole del nord Italia. Per cui molti docenti possono già in questi giorni presentare immediatamente una domanda di messa a disposizione. Ora, la nota MIUR del 28 agosto sul regolamento sulle istruzioni operative delle supplenze consiglia gli istituti scolastici di pubblicare gli elenchi di chi presenta la messa a disposizione e poi di nominare con una procedura comparativa rispetto alle domande pervenute. Si consiglia per cui i docenti che vogliono fare questa istanza di messa a disposizione di fare questa istanza tenendo conto soprattutto del titolo di accesso, in modo da specificando il titolo di accesso che posseggono, eventualmente i 24 CFU di riferimento per l'insegnamento, per chi possiede i 24 CFU e poi fare i titoli di servizio, sia quello specifico e sia quello non specifico, cioè riferito sia alla classe di concorso per cui si chiede l'accesso e sia per servizi prestati in altre classi di concorso per cui non si richiede l'accesso e inoltre dare tutti i titoli culturali, i titoli informatici digitali, i titoli artistici, i titoli per quanto riguarda la conoscenza e la competenza linguistica. Presentare dunque la MAD corredata di questi titoli. Le scuole si regoleranno come se affrontare delle gradatorie delle MAD che sarebbe una specie di quarta fascia interna all'istituto o comunque di comparare le domande pervenute per scegliere in modo appropriato il docente destinatario della supplenza che molto spesso sarà una supplenza di carattere annuale o al 31 agosto o al 30 giugno.